ok abbiamo il tuning in corso ecco il primo mavic mini ragazzi tutto ok super sport quindi 3x velocità verticale e fino al 30 per cento di boost quella orizzontale allora leonardo di arezzo questo il tuo mavic mini già effettuato il tuning per fcc e modalità super sport allora leonardo ricordati abbiamo effettuato lo switch in fcc ricordati la procedura per mantenere questa modalità abbiamo 11 canali come vedi quindi siamo in fcc